Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, vi voglio dire una cosa importante. Io vorrei, visto che ho visto persone che hanno fatto teorie su Ladybug, su Gumball, su di tutte e di più. Vorrei che voi qua sotto nei commenti mi dite in quale cosa fare teorie. Ah, comunque una cosa, no dove va, dove va, però faccio vedere proprio qua. Ti svegliamo? Ciao, sono Crash. Grazie, grazie a questa piccinazza. Ragazzi, alcune volte se vi dovete installare Twitter e andare a cercare GameSeries e ci dovrete mandare un codice che è questo. Un secondo. Ho sbagliato il nome. Comunque è questo. E voi dovete cliccare qua, tipo questa cosa della posta. E dovete mettere questo codice. Non so se cambia. Ah, e comunque, vi starete chiedendo, ma da dove si sta la stop? Si sta la Google Play? Eh, Google. Ma noi non abbiamo le scritte in cinesi, non siamo cinesi. Eh, posso andare su Google e scrivere in italiano. Cioè, più o meno, dobbiamo scrivere in inglese. Guardate. E poi dopo, cliccate su Epic Game Emulator Android o queste cose qua. Ci cliccate. E poi dopo dovete cliccate. E dovete fare anche le cose sconosciute. Dovete. Appena ve lo installate, vi chiederà le cose sconosciute. Di fare la modalità. Di cose sconosciute, di attivare la modalità che possono entrare le cose sconosciute. E voi potete installare Epic Game Emulator. E quindi dovete azionare questa. Questa cosa che c'è nelle impostazioni. Appena cliccate su download. E appena avrà finito il caricamento. Poi dopo vi farà il caricamento tipo il cosa di Aptoid. E quindi vi farà aprire le impostazioni. Cioè, dovete installarvi tutto. Cioè, e poi dopo vi arriverà una notifica sulle cose sconosciute sulle cose sconosciute. Le dovete attivare. Vabbè. E così, guardate che cosa avrete. Da qua andate a cercare i vostri giochi. Tipo qua andiamo a cercare Sonic Rush. Ed eccolo qua. Appena voi ve lo installate. Qua c'è anche la cosa cinese. Però a noi non ce ne può fregare di meno. E dobbiamo poi dopo andare su Play. E premere Start. O meno che noi facciamo così. E premiamo Set. Desktop. E ce l'avrete nella vostra immagine. Ma comunque se oggi ho i giochi di Ladybug mi hanno costretto. Cioè veramente un amante della serie di Ladybug mi ha costretto. Proprio cose strane succedono. Non ho però questi due dettagli. Ok ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Ah! Quindi consigliatemi qua sotto nei commenti di che cosa fare. Di fare reazioni su Ladybug. Su Gumball. Su dei meme. E su qualcosa. Quindi ragazzi. Il video finisce qui. Aspetto. Aspettate. Non riesco a mettermi la webcam con Mobizen. Vabbè comunque ragazzi. Anzi no. Un secondo. Ok ragazzi. Spero il video vi sia piaciuto. Lasciate anche i bei like. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!